Mancata bonifica di Piazza Castello, blitz della forestale questa mattina al comune di Avellino e nuovo avviso di garanzia al sindaco Paolo Foti dopo quello notificato gli a dicembre per omissione di atti d'ufficio. Gli agenti del NIPAF accompagnati dal CTU nominato dalla procura Auriemma hanno acquisito atti e documentazioni inerenti alla progettazione della messa in sicurezza ambientale della falda acquifera sottostante la superficie del cantiere. Un intervento che avrebbe dovuto svolgersi mesi fa e che riguarda un'area già sequestrata e dissequestrata più di una volta. Gli ultimi sigilli della magistratura risalgono appunto allo scorso dicembre. Gli inquirenti che hanno sedacciato gli uffici del settore ambiente hanno controllato pratiche, ordini di servizio, determini dirigenziali e delibere ma anche email relative alle opere da realizzare e all'intero iter di pianificazione esecutiva. Solo alle 14.30 hanno lasciato le stanze del terzo piano di Palazzo di Città con diversi fardoni e cartelle di documenti. Naturalmente su tutta la vicenda c'è il più stretto riservo. Bocche cucite non solo da parte degli investigatori ma anche di quanti hanno partecipato al prelivo degli atti collaborando alla loro acquisizione. Il fascicolo riguarda i materiali ritrovati e gli esami ambientali effettuati con particolare attenzione ai test sui cumuli di terreno da rimuovere per un totale di circa 500 metri cubi e sui quali la procura a quanto pare contesterebbe proprio le recenti controanalisi. Sulla vicenda si è espresso con estrema chiarezza l'avvocato Nello Pizza, legale del comune e del sindaco Foti. I dati in nostro possesso, ha detto, delle controanalisi realizzate sono negativi. Dunque l'ipotesi di reato avanzata nei confronti del primo cittadino per emissione di atti d'ufficio per non essersi subito attivato in una situazione di emergenza cade immediatamente. Su quella superficie del cantiere non ci sono materiali nocivi e il giudice ci aveva già autorizzato a pulire e smaltire i cumuli di terra. Tanto è vero che avevamo già presentato l'istanza di dissequestro.